Sì, sono i primi anni cinquanta del novecento a dare vita al fenomeno della canzone autoriale del paese dai natali ai poeti e con la chitarra. Cattivano la realtà, saranno dissagranti poeti, romani, giù piuttosto amari ed arrabbiati, ma sempre e comunque faranno dell'incontro fra la parola e la musica un nuovo modo per raccontare la storia. L'Italia ha voglia di scrollarsi di dosso l'orrore del secondo popoletto mondiale e i fasti pomposi del melodrama. Sì, sono i primi anni cinquanta, sono i primi anni cinquanta, sono i primi anni cinquanta. Sì, sono i primi anni cinquanta, sono i primi anni cinquanta, sono i primi anni cinquanta. Sì, sono i primi anni cinquanta, sono i primi anni cinquanta. Grazie a tutti Grazie a tutti